Nell'appello al voto che il dottor Angelo Cefalo ha rivolto alla collettività di La Terza, lui è candidato sindaco per il centrodestra appunto nel comune di La Terza, così abbiamo usato questo slogan, dalla cura dei pazienti alla cura della città, essendo appunto il dottor Cefalo un medico. Ma in questa collettività ci sono delle categorie, dei soggetti che hanno bisogno magari di una maggiore attenzione, penso ai giovani e penso agli anziani. Qual è il suo impegno per queste due categorie di cittadini? I giovani è prioritario, innanzitutto è prioritario sia la categoria dei giovani che la categoria delle persone diciamo più anziane e più fragili. Quindi per i giovani noi cercheremo di creare degli indotti, indotti di aziende che svilupperanno grazie ai nostri programmi, al nostro voler fare, al nostro voler riprendere, delle attività che alla terza stentano ad esserci e quindi non hanno avuto modo in questi anni di emergere e quindi svilupparsi. Quindi attraverso il nostro voler fare e i nostri programmi saranno favorite quelle azioni di sviluppo territoriale attraverso tutte le ricchezze che la terza oggi possiede, sia naturali attraverso i beni culturali e quindi l'organizzazione proprio delle attività lavorative, delle aziende lavorative, anche perché sappiamo che la terza è una città ricca di aziende agricole, di allevamento. Quindi noi cercheremo attraverso lo sportello europeo che metteremo a disposizione dei cittadini di reperire dei fondi in modo tale che utilizzandoli possiamo dare aria, ossigeno a queste aziende, possiamo dare la tranquillità giusta e quindi creare i giusti posti di lavoro, creare, dare la dignità di persona attraverso il posto di lavoro, attraverso il lavoro e attraverso la fattezza, la fattezza di tutte queste ricchezze, attraverso la fattezza, attraverso il riconoscimento a livello regionale e nazionale e pure europeo e mondiale dei beni culturali che la terza ha. Bene, dottor Cefalo, abbiamo fatto riferimento ai giovani, ora soffermiamoci sugli anziani, questa categoria davvero fragile. Categoria fragile, gli anziani saranno messi al primo posto perché noi attraverso il loro sapere, attraverso la loro saggezza, saranno prese in considerazione tutte quelle che erano le tradizioni di la terza, tutte quelle che erano le movimentazioni, le idee che gli anziani avevano per apportare, quando loro apportavano alla terza tutte le ricchezze che noi oggi possediamo. Quindi l'anziano non sarà messo da parte, l'anziano sarà messo davanti a quelle che sono le risorse di una cittadina ricca di beni e quindi noi dobbiamo ringraziare sempre gli anziani per tutto quello che ci hanno dato e quindi grazie al loro esempio partiremo per far rinascere questa cittadina e quindi portarla avanti e conservarla anche per i nostri figli. Grazie a tutti.